Oggi sono particolarmente emozionato perché occupo questo posto, occupo questo ruolo ed è per un cittadino, anche per un politico navigato come me, il punto più esaltante della mia carriera politica. Io sono stato seduto in tutti i parlamenti, da Strasburgo al Senato, al Parlamento regionale, a quello provinciale, ero stato seduto anche in questi banchi ma non avevo mai occupato questo posto e a mio giudizio quello che mi inorgoglisce di più, ho fatto il senatore, il parlamentare europeo, ma essere sindaco di Mistretta, della mia città, in questo momento particolare, è una cosa che mi inorgoglisce molto e che mi carica di grande responsabilità. Aver avuto e aver sentito i cittadini mistrettesi attorno a me in campagna elettorale mi ha ulteriormente inorgoglito e caricato di responsabilità. Io spero di partire da subito con tutte le mie capacità, con tutta la mia forza a coinvolgere l'intera città, a sostenerci reciprocamente insieme per far sì che noi possiamo riprenderci e rialzarci rapidamente e riacquistare non solo per problemi di immagine ma anche e soprattutto per problemi di rilancio e di prosecuzione in un'attività politica, amministrativa, culturale che Mistretta aveva per millenni tenuto. Io ritengo che questo sia il compito principale.